Lei, Cavaliere, è clamoroso per quello che afferma, comunque, oltre che vantarsi, non mi sembra che stia facendo altro nel suo intervento odierno in trasmissione. Questo lo dice lei. Lei non vede l'intervento fantasma che sta avendo la mia persona qui nel darle sostegno morale? Un po' come quando arrivo nello sfogliatoio del Milan, quando i ragazzi sono tristi. Quindi, basta solamente vedere il mio sorriso che, come lo sbadiglio è contagioso, allo stesso modo lo sbadiglio e il sorriso mio si stampa in automatico sui volti dei ragazzi del Milan che tornano in campo e, anche se magari malauguratamente stanno perdendo 1-0, perdono 2-0. Ecco, questa ha fatto la battuta, caro rugantino. Io la concedo, in realtà i ragazzi rientrano in campo e rimontano, rimontano alla grande fino a diventare campioni d'Italia, campioni d'Europa, campioni del mondo. Vabbè, Cavaliere, ok, la tiriamo sempre al solito. Con i vanti delle sue attività sportive, non? Comunque, vabbè, dai.